Dopo aver analizzato i risultati della ricerca rapida, posso decidere che sono soddisfatta della mia ricerca e che mi vanno bene i risultati trovati, oppure di voler approfondire la ricerca. Uno dei modi potrebbe essere quello di andare in una banca dati tra quelle che ho visto che ho risposto meglio, quindi cliccare su Trova banca dati e qui cercare quello che mi interessa. Ad esempio ho visto che PubMed aveva risposto bene alla mia ricerca, quindi potrei cercare qui PubMed, trovo il link e vado ad approfondire la ricerca direttamente sulla banca dati. Se non ho individuato ancora una banca dati di mio interesse, posso guardare tutte quelle che riguardano la mia materia, quindi andare in Trova banca dati categoria e vedere quelle di medicina, anzi in particolare quelle per la infermeristica. E tra queste vedere quale può interessarmi. Per ognuna di queste banche dati c'è anche una scheda che mi dice a che cosa c'è dentro, che cosa servono. Se invece voglio approfondire in particolari riviste che ho individuato, allora mi muoverò nel Trova riviste e libri, che come abbiamo visto è il catalogo delle riviste elettronice che è degli ebook, dei libri elettronici. Anche qui posso fare una ricerca, ho innanzitutto due menu, uno per le riviste elettroniche e uno per i libri elettronici. Da ciascuno di questi posso fare una ricerca per titolo, se ho individuato già una rivista, o cercare un libro, sempre per titolo oppure per autore. Da queste due, nei libri elettronici e nelle riviste elettroniche, a questo livello non posso fare una ricerca per argomento, ma soltanto cercare un titolo che già conosco.